RoboCup Junior 2018, il Paladin Martin ospita questo importante appuntamento, tre giorni dedicati alla robotica. Sì, è una manifestazione internazionale la RoboCup Junior Championship, è il primo torneo in Italia che vede ospiti 86 team provenienti da 14 paesi europei. Team di studenti, under 14 e under 19, che si sfidano nelle gare di robotica, nelle diverse specialità, dalla Rescue Line, alla Rescue Maze, al Soccer, alla On Stage e l'ultima specialità Eco Space. Gli studenti che cosa fanno? Si cimentano nella programmazione di robot che devono muoversi in pista e quindi mettono in campo delle competenze sia tecniche e disciplinari che vanno dalla programmazione informatica alle STEM, senza escludere le competenze trasversali e relazionali fondamentali per le nuove professioni. Inoltre rifletteremo in questi giorni su una nuova frontiera, la frontiera innovativa dell'intelligenza artificiale, tra sfide e opportunità. Sarà un dibattito su questioni etiche, su responsabilità civili. Quanti sono i ragazzi che partecipano a questo evento? Abbiamo visto tanti studenti, anche stranieri. Sì, sono circa 500 studenti provenienti dai vari paesi europei e non solo. Anche dalla Turchia abbiamo team che provengono dalla Russia, dal Portogallo. Insomma abbiamo ospiti, tanta gioventù internazionale ed europea.